Sono due appuntamenti annuali che da 42 anni stiamo facendo e non potevamo venire meno. Indubbiamente il pleneggio l'anno scorso è fatto con grande coraggio, quest'anno sicuramente saranno ancora molte più persone dello scorso anno. E ne approfitto per ringraziare anche i carabinieri, la questura, che sono stati sempre molto vicini a noi e ci hanno molto assistito. Poi per quanto riguarda la Tendopoli, evidentemente sarà di un solo giorno. La Tendopoli, anche se due giorni prima, antecedentemente, noi faremo delle connessioni via internet con i ragazzi per tenerli informati e per prepararli a questo evento. Quindi sarà un momento, la Tendopoli non può mancare perché c'è estremamente bisogno in questo momento storico. Siamo preoccupati, siamo preoccupati perché i giovani, i giovanissimi, i giovanissimi si sentono un po' isolati, soli. E da allora abbiamo invitato proprio a venire, credo che sia una delle persone che in Italia è più capace di parlare ai ragazzi, Alberto Ravagnani, che penso molti di voi lo conoscono, il quale sta sui media, sui siti, parla sempre ai ragazzi. E siamo riusciti ad averlo, sono molto contento. O tra luce sarà un nostro confratello, Pare Massimo, il quale è un esperto in musica leggera, in musica moderna, ed è richiamato e rinomato, tanto è vero che andrà anche al mitico quest'anno di Rimini, quindi prima andrà da noi e poi andrà anche a Rimini. Questo perché? Perché vorremmo che a questi nostri ragazzi giovani gli arrivasse un messaggio giovane, un messaggio che il tema della Tendopoli dice. Qual è il messaggio che vogliamo dare? Giovane, dico a te, alzati, tali tacum, questo è il tema. Giovane, dico a te, alzati, prendi la tua vita, prendi la tua storia, prendi quello che sei. Non aver paura, tu sai che sei speciale perché sei amato da Dio, quindi alzati e cammina.